Eccoci, bentornati al primo TEDx dell'Università Cattolica. Siete rilassati, rigenerati? Vi siete goduti il tempo in questa pausa? Oh, io poi il danno non l'ho più trovato, cioè mi è rimasta una fame, cioè non è neanche brutta in sé la fame perché ti porta in una dimensione, quella del digiuno, cioè mi è sembrato in questi venti minuti di avere delle visioni, una specie di sogno, qualcosa che vorrei raccontarvelo. Allora, a un certo punto mi sembrava di essere, anzi, sono in un luogo strano che sembra l'aldilà. Da queste parti il tempo non è lo stesso a cui siete abituati voi mortali, qui è tutto diverso. Faccio un esempio per spiegarmi meglio. Se per accidenti decidete di andare al bar con un amico a bervi un caffè, ci potrebbero volere anche 34 anni. E non perché il personale sia lento, ma perché funziona così. Uno ordina il caffè che è appena compiuto 30 anni e quando va alla cassa per pagare è invecchiato fino all'età pensionabile. Lo dicevo per fare un esempio, perché in realtà qui non si invecchia. Le partite di calcio sembrano durare 18 tempi di 45 minuti, i pranzi della domenica durano 7 settimane ed è meraviglioso, soprattutto quando la mamma porta in tavola i cannoli alla crema. Il sapore del primo morso può durare anche un anno bisestile. E il mattino del Natale, il mattino del Natale. Sì, perché qua, lo avrete capito, ci arrivano anche i bambini, i quali di fronte ad un fortino dei soldati che lo presidiano dagli indiani a cavallo, ci possano stare almeno sei anni senza mangiare. Certo, l'eternità ha i suoi vantaggi, ma può anche comportare qualche fastidio. Per esempio, ho conosciuto un ragazzo che nella vita terrena era stato bocciato in terza media. Un giorno, passeggiando davanti ad un edificio circondato dal verde, ha letto sulla targa che quella era una scuola. Immediatamente ha provato il desiderio di iscriversi per verificare se i programmi erano diversi. Purtroppo per lui la seconda media è durata tre secoli. Non sapeva più come uscirne. Un giorno mi ha raccontato che durante una lezione di applicazioni tecniche desiderava soltanto che suonassi la campanella dell'intervallo, ma a lui è accaduto solo dopo 86 anni. E quel che è stato peggio per lui era che la lezione successiva era trigonometria. Eh sì, si arriva qui all'età stabilita quando lo decide la direzione. E qualità lì te la tieni per sempre, per l'eternità. Certo, si capiscono un sacco di cose. La prima è che quando sei in vita è sbagliatissimo desiderare di vivere fino a cent'anni. Perché se la direzione ti ascolta, poi sei fregato per sempre. Guardate Tostoi, ce l'avete presente? È il romanziere. Quello era un omone pieno di energia, di una vitalità incredibile, abbattagliato contro la morte per tutta la vita. E poi lo hanno portato qua che aveva 82 anni. Passa tutto il giorno a lamentarsi che vorrebbe andare a cavallo, ma l'artrosi dell'anca glielo impedisce. Non digerisce più le aringhe, insomma, per tutta l'eternità dovrà alimentarsi solo con le zuppe. Oh, quante cose si comprendono stando qua. Ogni giorno un mistero viene illuminato. L'enigma che ci ha tormentati per millenni svanisce. Io, per esempio, sono sempre stato affascinato della questione della risurrezione. Mi chiedevo, ma per davvero ci saremo tutti? Cioè, intendo tutti quelli che sono nati, venuti al mondo, anche in epoche diverse, i fenici, i vichinghi, i giacobini, i coniugi Pasteur, Caligola, Platoni. Ci saranno sia i buoni che i cattivi? Per davvero? Ma per davvero si potrà incontrare Manzoni, Maradona, Hölderli, Jack, lo squartatore? Ma poi, l'aldilà è un luogo fisico o virtuale? Cioè, mi spiego, esiste un pianeta, magari oltre il sistema solare, da qualche parte, nello spazio infinito, da qualche parte là, in alto, in basso, o di lato, non so dove collocarlo, insomma, e come ci staremo tutti? Stipati come delle sardine dentro una scatola di metallo? Oppure staremo come una particella di luce in uno spazio infinitamente piccolo, ma da poter illuminare tutto l'universo? Oh, vabbè, l'ipotesi che mi convinceva di più era quella del pianeta ultraterreno, però poi la mia mente non riusciva ad immaginare la proporzione di quel luogo. Quanti staremo a stazionare lì? Voglio dire, come si fa a stabilire quanti sono in totale gli esseri umani nati e successivamente morti, calcolando approssimativamente dal primo uomo apparso sulla Terra fino ad oggi, nel 2021? Quanta gente sarà transitata da ste parti? Tra cavernicoli, istanziali, primitivi, immigratori, esseri umani dell'età del ferro, ominidi, dediti alla pastorizia, guerrieri, mercenari, principi, meritrici, sacerdoti, commercialisti, pittori, notai, palafrenieri, 80, 100, 120, 200 miliardi di persone? Dovrà essere bello grande quel pianeta per raccoglierli tutti e poi non ci deve sfuggire che dovrà essere ancora più grande perché se il creatore ha intenzione di far continuare la vita sulla Terra e solo lui conosce le sue intenzioni e chissà per quante centinaia di secoli ancora, allora tutta questa gente è che come lui ci ha promesso non svanirà nel nulla, dovrà per forza trovare un posto nel pianeta dei risorti, tecnicamente si dice così, e malignamente pensavo ma se eravamo vivi e magari con un bel posto di lavoro decente, ma non poteva lasciarci in vita, che bisogno c'era di farci morire e poi farci riaprire gli occhi su un altro pianeta? Boh, Boh, lo saprà lui. Oltre a tormentarmi il pensiero della risurrezione mi metteva anche di buon umore e mi eccitava perché se fosse realmente esistita, pensavo, mi avrebbe consentito di soddisfare fantasie inimmaginabili tipo la possibilità di incontrare persone strambe come l'inventore della chiave a brugola, l'ideatore del gabinetto o il tizio che aveva scoperto la penicillina che poi, che poi è accaduto per davvero, è un certo Fleming che conobbi ad un party di festeggiamento per l'invenzione di David Copperfield, il romanzo. Sì, perché da queste parti le feste sono continue ed hanno un succedersi alfabetico, cioè si festeggiano tutti quelli della lettera A, Annibale, Alcibiade, Adorno, Asimo, Aster, Fred, Attila, poi ci sono quelli della B, della C, della D e così via. Tutti vengono festeggiati, sia quelli che sono stati famosi e quelli no. Ad esempio, vi dicevo che qualche settimana fa, difficile dire quante settimane di preciso perché le settimane possono durare anche secoli, comunque, insomma, si festeggiava Dickens, Charles, per i suoi romanzi, ma abbiamo festeggiato anche Degrat Fritz, un modesto scrittore di racconti tedesco, o Douglas Thomas, un capofficina che aveva lavorato alla Volkswagen negli anni 50. perché per un giorno intero non insultò i propri sottoposti, o Domizzi Mario, il centurione che fece bere tre volte un prigioniero anziché due. Perché mi hanno spiegato, ognuno ha fatto almeno una cosa meritevole nella vita e per questo viene festeggiato. Voi non ci crederete, ma li abbiamo festeggiati tutti quelli della D, saranno stati cinque, sei miliardi, ma che bevute, quanti cannoli alla crema e birra e senza glicemia alterata, e questo è il fenomenale. Finito l'alfabeto, si cominciano a celebrare le grandi opere d'arte, le invenzioni, perché qua è tutta una festa. Vi devo confessare che il ciclo delle feste per le invenzioni è quello che prediligo, come abbiamo brindato per l'inventore del cacciavite a stella, l'avvitatore elettrico, il bimbi, la radiosveglia, l'auline, l'aria condizionata e i registratori a cassette. Oh, a un certo punto stavamo festeggiando il vincitore dello scudetto della stagione 20-21. Porca vacca, mi sono svegliato. dillo scudetto